Chiudere bene il 2021 per guardare con fiducia e con speranza all'anno nuovo, obiettivo non semplice, non scontato per queste due squadre che arrivano all'appuntamento di oggi con stati d'animo completamente opposti. Da una parte l'atletico Terme Fiuggi che ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro gare nonostante la buona posizione in classifica. Dall'altra il Matese, la squadra campana, reduce dall'esaltante vittoria con l'Aurora Alto Casertano e fortemente rinforzato dalla sessione di mercato invernale. Ci sono i presupposti per vedere una gara gradevole ed equilibrata. Si sfideranno atletico Terme Fiuggi e Matese per la sedicesima giornata di serie D, girone F. Dal capo i prati di Fiuggi un buon pomeriggio da Francesco Mancini e Marco Daguanno. Per l'atletico Terme Fiuggi ci sono tante indisponibilità, mancano Forgione, Potenza e Mejri. Sostituito in porta da Secco, prova a recuperare ancora l'atletico Terme Fiuggi. Sulla sinistra, poi può proseguire l'azione, vince un rimpallo. Ancora l'atletico Terme Fiuggi, il pallone nel mezzo e c'è il gol! E c'è il gol della squadra di casa, l'assist perfetto in profondità di Cipriani. E c'è stato il gol della squadra di casa. Barriera a 5, schierata dal portiere Secco. Si chiama la punizione, pallone interessante ma viene bloccato senza troppi problemi. C'è movimento in area, il primo palo, la parata spettacolare su questo colpo di testa pericolosissimo. Un giocatore di grandissima esperienza. Attenzione, il pallone nel mezzo, pericoloso, allontanato. C'è il sinistro pericolosissimo, la grande parata di Secco. Attenzione, ancora a centrocampo con il pallone a cercare il solito Tribelli che ha toccato tantissimi palloni in questo primo tempo. Cross interessante, sul secondo palo il colpo di testa. La rincorsa di Ricciardi, il pallone nel mezzo teso. E quindi si riprende a giocare. Ancora il Matese, pallone nel mezzo, pericoloso, il colpo di testa! Pallone di pochissimo alto. Attenzione al pallone verso L'Angelotti, il traversone di L'Angelotti, pericoloso. Galesio non arriva sul secondo palo, Tribelli sì! Ancora il pallone ricamato, di poco a lato. Attenzione, poi il pallone per Francia sul sinistro. Ancora Francia vince una serie di rimpalli, poi si allunga il pallone, non riesce. Lascia correre ancora il direttore di gara in questi tre minuti di recupero. Attenzione, il pallone nel mezzo, ultimo attacco con Galesio che arriva. Poi esce secco e agguanta ancora il pallone, ultime opportunità. Il rinvio dunque del portiere Fischia, triplice Fischio, finisce qui. Atletico Termefiugi batte Matese per 1-0. Ritrova i tre punti, la formazione di Romondini, ottenendo appunto un successo importante. Dopo un periodo particolarmente difficile, l'Atletico trova la forza in una partita combattuta per trovare questi tre punti e per portarsi a quota 29. Ci si ritroverà domenica 9 gennaio con l'Atletico Termefiugi che giocherà a Castelfi Dardo. Si ritornerà invece in casa addirittura nella diciannovesima giornata, il 23 gennaio, quando l'Atletico Termefiugi ospiterà il Chieti. Grazie a tutti, un caro saluto e un buon 2022 da Francesco Mancini e Marco Daguanno.